segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ce l'ha raccontato in questo studio a casteller l'orsa jj4 che idea si è fatta sulla ipotesi di questa nuova perizia e sulle possibilità che potrebbero scaturirne ma intanto se dovesse essere confermato quello che pare emergere da questa perizia ulteriori ombre calerebbero su una vicenda che è ben lontana ancora ahimè dall'essere chiarita la famiglia di questo ragazzo ha tutta la mia vicinanza e tutte le ragioni perché in questo momento viene utilizzato scusate uso questo verbo molto forte volutamente per avere un alibi per uccidere inutilmente orsi quando questi genitori meravigliosi hanno pubblicamente detto che l'uccisione di jj4 mai riporterebbe purtroppo in vita il loro ragazzo e che la provincia vuole uccidendo l'orsa così assolversi e in un certo senso togliersi tutte le colpe quando le responsabilità che sono in capo alla provincia per la morte di questo ragazzo sono importanti ora noi abbiamo piena fiducia nella magistratura io voglio ripeterlo forte e chiaro e anche per questa ragione abbiamo appena depositato una denuncia contro i gnoti per la morte di m62 che l'altro orso che era sulla lista nera dell'aspirante killer di orsi fugatti e che è stato trovato morto qualche giorno fa ora sono arrivati i risultati dell'autopsia e non si è davvero ancora stati in grado di capire le regioni della morte e quindi l'ombra del bracconaggio è molto forte ma del resto seminare continuamente odio paura intolleranza verso questi orsi a due effetti uno quello sicuramente di essere potenzialmente coloro che fanno scaturire episodi gravi e magari anche poco piacevoli e due di danneggiare in maniera importante il turismo del trentino perché guardate io da ex ministra del turismo e poi su quello che può scatenare ci arriviamo soprattutto perché poi voglio leggerle un'agenzia che arriva dal consiglio provinciale trentino a proposito di giustizia fai da te no che si potrebbe innescare però volevo sentire zibordi sulla grazie a tutti